La colletta alimentare nasce fondamentalmente dalla genialità di un prete e un imprenditore, nello specifico Don Luigi Giussani e il Cavaliere Fossati, che vent'anni fa, parlando tra loro, capirono che bisogno c'era di aiutare le persone più povere nel semplice gesto di mangiare quotidianamente. Così iniziarono i primi banchi alimentari, dove le imprese che avevano delle eccedenze donavano queste eccedenze e queste venivano distribuite. Con il passare degli anni si è capito però che questo doveva essere anche un momento pubblico, condiviso con il mondo, per cui è nata la colletta alimentare, un semplice gesto di carità con cui si deve condividere, si può condividere la propria spesa. La prima osservazione che mi viene rispetto a quello che dici, che è il senso della solidarietà, è che nella nostra comunità è uno dei valori più profondi, più amalgamati nella storia della nostra comunità. Delle lotte operaie, dalle cooperative bianche o rosse, dall'associazionismo, dal volontariato, sono testimonianza che il senso della solidarietà, chiamiamolo in termini cristiani, dell'alterità, dell'interesse all'altro più debole, fanno parte delle radici più profonde della comunità argentina. La colletta alimentare è un momento di grande festa, quindi prima di tutto coinvolge noi giovani. E perché? Perché abbiamo incontrato persone che ci hanno fatto appassionare alle cose concrete, alle piccole cose, semplici ma piene di valore. Per cui anche un gesto come condividere la spesa può essere vissuto come un momento di festa, perché prima di tutto è un momento educativo, ti insegna la grande virtù della povertà, che è la virtù di cui ci sarebbe più bisogno, soprattutto in un momento di crisi economica. Perché? Perché la crisi non si batte con la speculazione o con la finanza, la crisi si batte con delle persone che costruiscono e per costruire uno ha bisogno di essere semplice. Per questo la colletta ogni anno, anche di fronte alle difficoltà più grandi, cresce. Perché il cuore dell'uomo non è mai in crisi, anzi, è sempre più bisognoso e sempre più dinamico. E questo è il grande spettacolo della colletta. Trovate forme nuove per poter dare significato all'idea del tono gratuito ed incondizionato. Lo faccio rispetto alla persona che ha una sofferenza, che è di vario titolo, ma soprattutto più delle volte che riguarda la povertà. Io mi presto senza nessuna condizione, senza chiedere nulla in cambio, senza pensare lontanamente a quello che è un ritorno personale. Quelle donne gratuite ed incondizionate. Tutti coloro, cooperative, volontari, associazioni, singoli cittadini, che si prestano a fare questo, non solo sono coerenti con la storia argentana, ma loro va la gratitudine più profonda. Perché chi si dedica all'altro, con il disinteresse più forte, a lui bisogna dire grazie secco, senza troppi forza. Uno dei momenti più belli dell'anno scorso è stato l'incontro con un signore anziano che avrà avuto 70-75 anni e si vedeva che era una persona povera ed è uscito dalla spesa con due sporte, una molto grande e ce l'ha lasciata a noi e una piccolina per lui. Allora noi siamo andati tutti a ringraziarlo tantissimo e lui ha detto, appoggiandoci la mano sulla spalla, ragazzi sono io che ringrazio voi, perché io di questa cosa qui ne ho avuto bisogno e so che cosa vuol dire. È stato un momento veramente commovente, perché non è scontato incontrare persone così. E la colletta è... questo è il quotidiano della colletta, una rete di relazioni con persone, come diceva prima l'amico Peppino, che sono in difficoltà, che hanno dei problemi concreti e hanno bisogno di qualcuno che gli fasse compagnia in questo. Questa è la proposta della colletta.